Una vasca contro gli allagamenti a Partanna e a Mondello. Il comune di Palermo si mobilita così per risolvere il problema. Il servizio mobilità ha appena pubblicato la determina con la quale fissa i termini per l'apertura del cantiere del Coime in via Partanna-Mondello, nella zona dove sarà realizzata la vasca drenante per la raccolta di acque piovane. La vasca sarà realizzata nello slargo antistante allo stabilimento Guaiana, tra le vie Amarilli e Nestore, senza incidere sul traffico veicolare. I lavori dell'importo di 480 mila euro saranno realizzati in aus dal Coime e il termine è previsto a marzo del 2020. La vasca, che sarà realizzata con tutte le opere collegate, avrà un volume lordo di oltre 570 metri cubi. L'intervento era stato approvato dalla Giunta nel mese di novembre scorso, su proposta dell'area della rigenerazione urbana, che ne ha curato il progetto nell'ambito degli interventi per la mitigazione del rischio di allagamenti nell'area di Partanna e di Mondello. Il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, ha dichiarato che mentre l'amministrazione è impegnata con la Regione per lo sblocco delle opere più importanti e soprattutto gli interventi straordinari sul sistema del cosiddetto ferro di cavallo, continuiamo a realizzare interventi che, se non risolutivi, sono comunque un modo per far fronte ad eventi meteorologici di media intensità. È importante che questo intervento in particolare sia interamente frutto del lavoro del Comune, dalla progettazione al finanziamento, alla realizzazione, tramite le maestranze e le professionalità del Coime.